musica come vieni come vieni come vieni come scopri un mondo nuovo perchè vieni come vieni come vieni come scopri un mondo nuovo perchè ragazzi ancora qui un'altra settimana con noi come allora l'argomento di oggi ragazzi è si può crescere un figlio bene senza mai alzargli le mani uff guarderamocela adesso la domanda è ma la risposta la sappiamo si si può mai alzargli le mani no mai alzargli le mani no quando gli hai alzato? è che non lo so non lo so però una vita senza mai mettergli una mano addosso è difficile? mmm quando non so perchè non ho un figlio però quando è che avete smesso di prenderne voi? no 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 quando abbiamo smesso le fagazzate no 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 è una responsabilità diversa c'è stato un momento in cui magari per noi maschi quando arrivi lì e tuo papà capisce che non ti picchia magari però cioè nel senso che sei abbastanza grande per così poi smette no? si però è vero io penso quando avevo 12 anni sei una secchioncella se hai smesso di prenderne a 12 anni vuol dire che non ti sei fatto sgammare boh scappare di casa no no assolutamente no però insomma una certa quando cresci non può più prenderne come una volta poi dipende anche come cresce magari la maturità del figlio magari a 12 anni lei è arrivata a un punto dove stava un po' più easy domanda da un milione che figlia sei? che numero? la prima oh strano è interessante perché io ammetti che e ce l'ho prese eh perché ce l'ho prese però a un certo punto che devi fare che tra l'altro non prenderò non erano neanche più soddisfatte alla fine perché mi picchi non piango che faccia? esatto non c'hanno più neanche quella soddisfazione non fa più male cioè non c'hanno quella soddisfazione no non fa più male a 12 anni no ma no io lo facevo proprio apposta capito? cioè nel senso per non dargli la soddisfazione perché sei fortunato perché con certi genitori ah non piangi ti picchiano finché piangi cioè picchiarti serve a farti piangere quindi eh dopo un po' ancora si abitua non piangi che dopo si diventa è peggio per loro perché più vedono che ti picchiano non stai reagendo non piangi non ti fa male non stai magari li ricolpisci che dicono ah quindi mi vuoi minare e cose così quando vedono hai colpito i tuoi genitori? no quando vuoi tipo schivare hanno un momento in cui capiscono che non 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 fa più quello quello quell'effetto che faceva prima e poi capiscono anche che magari tu puoi eh reagire a quello che tu capisco quello che tu sta ricevendo insomma ma per me questo momento è arrivato a 18 anni ognuno 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 poi c'era quella cosa che ero donna quindi ma secondo voi picchiare è educativo? certo certo però sinceramente penso questa cosa qua sì nel senso dipende secondo me dipende secondo me dipende no no aspetta definiamo il picchiare che vuol dire il picchiare pesante picchiare pesante cinta, zoccolo picchiarella dipende io posso posso dire questo mio papà aveva un metodo molto professionale per picchiarmi cioè io mi ricordo nel mio palazzo c'erano persone che quando prendevano una nota o un brutto voto a scuola i genitori li prendevano pum tipo dipicchiavano come fossero no né come mai dipicchiavano come se fossero loro coetanei mio papà invece aveva questo metodo qua professionalissimo hai preso tu eh ciao Tommy benvenuto mi ha stato nell'orrore provami a prendere il mestolo il mestolo di metano? non ho il mestolo quello per fare semo di italiano vado a prendere il mestolo vado a prendere il mestolo e dice ok hai preso due matematica sono 20 mestolate 5 sul culo 10 sulla mano e 10 a caso dove mi va a me molto diplomatico e tu andrà a riprendere il mestolo? no no ma la minaccia è che è che se non lo prendi le prendi lo stesso è peggio perché se non prendi il mestolo vieni picchiato a caso e sei diventato un bravo ragazzo grazie a questo sai cosa posso dire? per me ci giuro cioè siamo in cinque figli no? io sono cresciuto quando i miei genitori magari abitavano nel quartiere e vedevo certe situazioni di violenza erano e quindi ero sono diverso da come sono i miei fratellini quindi paradossalmente è brutto dirlo ma forse per me era più necessario che per loro perché per i miei fratellini che sono cresciuti in una situazione magari più agiata così loro si spaventavano solo che lui urlasse e cambiasse cambiasse voce così però io ero di cioè ero più propenso a fare cose ma sarei cattive da bambino quindi quindi tu visto che hai avuto questa lezione di vita picchieresti i tuoi figli? beh picchio anche i miei fratelli quindi wow cioè gli do una sgolacciata con le mani cioè se è necessario spero che non sia necessario poi devo ammettere questo cioè parliamo di questa cosa qua a volte certi nostri centri africani magari nel picchiare esagerati esagerati cioè magari ci devono se c'è l'istruire dietro vero e proprio ci sta anche che perché diciamo sono culture diverse però bene o male le prendono un po' tutti i cinesi i marocchini tutti però quando c'è dietro una scusa de usare il picchiare come educare però invece dell'educazione il vero motivo magari è rabbia o è frustrazione o è cercare di non vedere il tuo passato nei tuoi figli o potrebbe essere qualsiasi cosa che ti fa ti parte ti scaturisce quella quel momento tu non stai veramente pensando io voglio picchiare mio figlio perché voglio educare ma stai pensando altre cose e lì è sbagliato perché non lo stai picchiando per educare ma gli stai mettendo in una situazione che non è fuori il controllo della persona quindi non penso non so fino a quanto quanto può essere educativo per la persona che riceve una sberla che può essere una sberla può essere una cintura può essere io poi ho preso anche la spina delle cose che si mette sul muro i pianti non sanno e poi ci sono anche altri che magari non lo dico i pianti non sanno comunque io capisco perfettamente quello che dici quindi come dici te se io devo educare mio figlio dipende pure dall'età se c'ha due anni non gli posso lanciare la ciabatta magari lo metto in un angolo o gli do qualche scolacciata e quello finisce lì ma se devo educare un ragazzo di 12 anni 11 anni ci parlo capito? ci devi provare a parlare perché quello che penso che è mancato nel mio punto di vista è che magari i miei genitori dovrebbero essere un po' più comunicativi che magari non sapevano come gestire la cosa e la rabbia comunque quello che fanno i nigeriani capito? ma non è perché cattiveria o perché erano frustrati io se domani ho un figlio cerco di fare fare come qualcosa come si dice descalation se faccio questo prima faccio questo prima faccio questo se poi che sei il diavolo prendi le pizza te le prendi però non è che se gli do le pizza allora lui si impara perché io conosco gente che tu lo per me è nata oggi fino a domani domani li fanno fare ma in realtà a volte io a volte sono dell'idea che certi bambini che crescono in certi contesti in cui c'è così tanta violenza e vengono picchiati così tanto la cosa automatica è che poi vanno a scuola e più che a meno compagni sono che sono abituati alla violenza non colpevole sono il primo in assoluto la cosa che spaventa di più è non c'è cosa peggiore di un bimbo che sa che tu non li venerai mai e però cioè se tu li ha visti questi bambini li conosci li vedi come si comportano hai capito ma lei sta peggione hai capito negli occhi lo vedi John John ti giuro ti giuro Io non dico, mena è l'ultima scelta, ma c'è stanno tanti modi per arrivare, inginocchiati, alza le mani e si mette la con il giornale, però tu abbassi le mani e alza. Esatto, ma poi perché noi parliamo, perché noi parliamo tanto, perché anche noi parliamo tanto, io queste cose non le so, spiego come funziona. Noi parliamo tanto, noi parliamo del modo educativo soltanto da parte dei genitori educativi, però in Africa, per esempio, nelle scuole, non so, ragazzi, potrei dire una cosa? Aspetta, aspetta, questo è educativo, esatto, per un bel po', oppure altri due, 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 due. E ti faceva su e giù? Sì, un'ora, un'ora, un'ora. Dall'altra parte abbiamo in Africa, che è anche proprio un vero e proprio un metodo per riducare anche a scuola, se tu prendi un brutto voto, fai assenza, sei in ritardo o non hai la divisa messa nel posto bene, lì loro ti picchiano, può essere una punizione che usano il bastone, ti danno anche non solo sulla mano, come sulla schiena, sul fondo schiena, ti fanno fare cose come, come ha fatto vedere Tommy, che dopo un po' di minuti ti stancano fisicamente, ti fanno fare, ti dicono vai fuori, fai tipo gli squat, frog jumps, che devi stare tutto il viale della scuola, che devi saltare. Perché ne sai così tanto? Perché ho studiato anche in Nigeria, quindi, e che poi è stato anche molto un periodo scioccante, perché comunque sono cresciuta in Italia, è nata lì, scuola lì, c'è stato un anno, un anno due, dove sono andata in Nigeria, e ho avuto opportunità, perché mi ha servito anche, quindi mi ha dato, mi ha portato del bene, però era molto traumatica come, come cosa. Perché perché lo facevano? Con Casillas, loro li preparano per il futuro, cioè se tu devi andare a un lavoro, tu non è che puoi fare tanti. Esatto, infatti mi ha dato anche tanto quell'esperienza lì, essere istruita in un mondo totalmente diverso da come ero abituata, e anche quando sono ritornata, poi in Italia a continuare gli studi, era comunque diverso il mio approccio nel vedere le cose, nel fare, di seguire un'educazione più seria, che tu vai lì, sei lì per studiare, non soltanto per fare questa vita sociale, da teenager, che hai amicizie, eccetera, eccetera. Lì è un po' più, tu stai, anche perché magari paghi per la scuola, paghi per tutto, hanno una mentalità totalmente diversa di come stai studiando, stai studiando, cioè soldi, tempo, risorse, che sono difficili da avere in Africa. Sono tornata con la consapevolezza più solidificata, che lo studio è una cosa che mi servirà, quindi magari non andavo, cavolate proprio, ah, c'è la sveglia, voglio dormire di più, quelle stupidaggini non c'erano più, cioè non mi ero abituata a essere proprio dritta, abbiamo anche a che fare con... È strano questo discorso qua, perché tu dici giustamente... Lo sai perché non è strano? Scusami se ti taglio, perché il motivo perché fanno questo è per infondere paura, è per traumatizzare. Se tu lo fai a un bambino di tra i due ai sette anni, quello si impara, punto. Però tu dopo lo fai a un bambino grande che inizia ad essere più consapevole, lui sa che tanto io adesso, mi fa male adesso, fra cinque minuti non mi fa più male, è una cosa più psicologica. Sì, che cosa non mi torna a voi? Dite, è importante questa cosa qua per educarli così. Sì, infatti il mondo conosce, tutto il mondo conosce la grande puntualità degli africani, no? Grande, on point, on point. Vorrei dire, vorrei dire. Non è che hai cambiato tanto, dici in poche parole, non ha corretto chiesto, non è vero. Anzi, anzi, non ha corretto molto, non è vero, ha ragione. Per cui lo infatti dicevo che il dolore poi va via, quindi anche funziona, va bene se c'è un bambino di sette anni, che quello lo meni, e dopo si impara a essere plettuale, si impara a stare zitto, si impara a fare i compiti. A un bambino di 12, 15, 16 anni non lo puoi menare, perché tanto poi lo dici, ok, lo meni, va via. Vabbè, ma a 12, 16 anni vuol dire che l'educazione non gli è eredata prima. O comunque sia, o comunque sia, magari c'ha delle cattive influenze che lo portano a fare determinate cose, o è lui il primo che fa determinate cose. Però non puoi usare lo stesso metodo per tutti i figli. Anche. Ok, quindi magari c'è uno che è più stubborn, che è più testardo, e sai che lo devi, che devi stare più dietro rispetto a un bambino che è più... Facciamoci due domande, diamoci due risposte. Cioè, chiaramente tutti noi magari le abbiamo prese, perché i nostri genitori sono un psycho africano. No, però, cioè non è che quando eravamo in classe e noi che le prendevamo eravamo più educati degli altri bambini italiani. Esatto, è quello che dico. E non le hanno mai prese. È una tua scelta anche che fa con... Perché là, perché là eravamo John, là lo è regato. No, lo sapevamo, lo sapevamo, lo sapevamo, capito, lo sapevamo. Io entro in classe, maestra, io lo sia di... Hai un malzio? Hai un malzio? Non sei neanche un mesto. E' vero questa cosa, però, è vera questa cosa. Era anche una situazione dove tu ti sentivi, a me mi melano a casa, eh. Tu con me non puoi fare certe cose, eh. Tu lo sai cosa ho sopravvissuto a casa mia? Ah, quindi vuol dire che non serve a niente. No, io invece, no, io c'avevo paura, perché poi se ti comportavi male, a me se lo diceva più giusto. Appunto, ma perché tu sei fatta così, però... Tu sei fatta così, io in piazza a me nessuno mi diceva niente. Se tu mi dici B e io volevo dire A, è la tua fine. Ma perché io da casa ero già... Sono di carattere di natura mia, anche molto, molto dura. Se tu sei una un po' più che magari serve anche soltanto la strillata, tipo, mia madre parla, non deve necessariamente menare. Quella donna, se tu guardi i suoi occhi, oh mio Dio. È come se stai morendo, proprio quando arriva il contatto, la connessione del vostro sguardo, è come se tu stai vedendo il diavolo che si sta manifestando. Quindi tu non vuoi che ti guarda con quello sguardo, oppure capisci subito quello che ti vuole dire. Quindi ci sono modi diversi che funzionano con persone diverse, ma anche in base al tipo di persona che sei tu. Comunque, anche come stavi dicendo tu, cioè mi ricordo ancora se fosse ieri, sono andata malissimo in un compito. Quindi incontro genitori insegnanti, il viso di mio padre. E così, ok. Cinghia subito, proprio. Cinta, ok, girati, vai. Però ecco, ti fa un attimo... Cioè, una cosa è, chiaramente, uno che comunque è violento, oppure, come ho detto, uno che ti butta la frustrazione addosso, un altro è comunque la disciplina. Perché tu sai, anche solo con uno sguardo, ho fatto una cosa di sé sbagliata. Hai capito che hai fatto l'errore? Allora, quello è più un discorso che ti dà la consapevolezza del giusto e sbagliato. Quello sì, minare i figli, usare un certo livello di fisicità, ti fa capire il livello di come hai sgarato. Se tu magari hai fatto una cavorata, che ne so, hai rubato in un negozio, e ti viene il genitore e ti fa, don't do that again, tu pensi che, tu pensi che è una cosa, ah, vabbè, don't do that again, questa non sta sgridando, si sta sgolando, non mi sta a menare, è una cosa normale. Mentre se uno, se tu c'è un genitore che te, quel giorno tu sei morto, capisci, almeno, che è sbagliato. Poi scegli se farlo o meno. Sì, ma devi avere tutte e due, cioè, sì, ti devi menare, ma poi li devi pure da qualche sordo. Ti richiede perché hanno da rubare. Capisci, sì, 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 come ha detto Natacci, sì, anche perché se manca comunicazione, io penso anche che è una fase dove tu non riesci a connettere con i tuoi figli come dovresti. Posso dire una cosa? Però quella che ha detto Natale mi ha fatto pensare, perché, insomma, io, mio sorello e mio fratello, io non mi ricordo quando una volta mio padre e mia madre hanno nominato mia sorella. Non mi ricordo. Non è messo da me. Anche con mio fratello. Vabbè, a parte che io ero più grande, quindi... Però, purtroppo, pure cultura, ma pure cultura, perché in Nigeria, la prima figlia, se io sono prima figlia, la prima figlia, se sbagli o non sbagli, te le prendi. Se è mio fratello, l'è l'ultimo, l'è maschio, sbagliato, ha sgarato, te le prendi te. È la colpa mia, perché he's your little brother, he's your little brother, you know? Capito? Quindi, io forse sono più terrorizzata dai miei genitori, perché io ce l'ho presa tante. Cioè, alla fine si chiama disciplina e secondo me la puoi imporre in vari modi. Alcuni sono proprio bravi con la psicologia. Io mi ricordo, quando andavo dai miei amici bianchi a giocare, e se loro combinavano qua, e la mamma gli diceva, non puoi uscire per una settimana. Ah, mamma, no! Luca ha disperato. Per te la cosa normale, stai sempre dentro casa. No, mamma, 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 no! Per loro funzionava, gli bastava questo. Se la mamma mi avesse detto, botto, non puoi uscire per una settimana, è proprio... Io invece penso che, non so, a me o per me, ho visto che funziona molto dare valori a una persona. Cioè, da quando è piccolo, gli dai valori, giusto o sbagliato. Ovviamente, non è che quando esce, poi non hai gli occhi binocoli per seguirlo in giro. Gli dai valori e poi farò le sue decisioni. Esatto. Quindi se cerchi di infondere i valori positivi, sempre. Ma come gli dai valori? No, ma gli insegni, ma bambini, imparano. Come imparano? Come? Dall'esempio? No, non per forza, esempio. Dall'esempio dal genitore? No, non deve per forza... Alcune volte, no, serve, non sto dicendo che non serve. Qualche volte, quando la fa, la combina proprio grossa. Io con i miei fratelli, ho un mio fratello piccolo, non lo picco quasi ma, cioè, quasi mai. mai, forse. Però quando la combina, cioè, io lo sgrido, cerco di fargli capire che guarda, è sbagliato, lo guardo male, gli dico, capisce, perché cerchi di infondere un valore, dici, no, guarda, questa è una cosa sbagliata e quando lui va fuori, sa, ah, mio fratello mi ha detto, mia madre mi ha detto, mio padre mi ha detto, a me per me è stato così. Quindi tu non cuccheresti il tuo figlio? O tua figlia? Se la combino grossa, probabilmente sì. Mia figlia, io male, no, io mia figlia la madre. Ah, la figlia no, la figlia no. Però lo faresti, aspetta, tu non lo faresti, però lo faresti fare alla madre. Ecco, diciamo che stiamo sullo stesso argomento, è sempre piccolo genitore, piccolo genitore. Che la mia madre, scusatemi, domanda, voi che siete nizeriani, sapete che cos'è il covoco? Sì, è il bastone, quello che hanno stato a scuola i bambini. Mamma faceva così con le foglie degli altri. Sperito. Il covoco è chiaramente uno strumento di educazione dei bambini che ha composto a persone. Sì, è proprio quello. C'è un business. Yes! Sì, è un problema. Ma anche il modo di mettere la mano, perché se tu la tieni troppo così, colpisci queste parti che sono dedicate. Se tu la metti così, colpisci queste. Sei un esperto di qualcosa. Hai visto? campanato le cose, eh! No, però secondo me le botte servono pure tante. Non tante. Sì, tante. Solo se sono maschi, chiaramente, no? Cioè, per esempio, se io vado online e vedo che ne so, l'alunno che si alza e ti ha lo schiaffo alla professoressa, cioè, io voglio educare il mio figlio in una maniera, cioè, il mio figlio mi rappresenta. Sicuramente tutti possiamo rischiare di avere figli ribelli e quello che ti pare, però io spero di far talmente tanto un buon lavoro che lui o lei non sarà ribelle tanto che mi porti a picchiarla. Io mi ricordo quando ho smesso di prendere. Io ho smesso perché mia altra amizia e mi zia parla con mia madre e non so come che succede tra sorelle. O se mi fanno vedere sapere la mamma. Non so che succede tra sorelle. La zia è sempre la salvatrice. Non educhi bene i tuoi figli, quindi quei tuoi figli... Succede che mia zia dice guarda, tuo figlio ha fatto questo, questo e questo e io a mare faccio male. Non è vero. Vedi zia là dietro? Quindi io sto mentendo? Vedi i tuoi figli? Io sono confuso e non capisco cosa sta succedendo perché io non ho mai visto mia madre tornare su di me così veloce mi c'è da poco girare è una altra persona. Mia sorella! Alza la mano per darmi la cinquina e io fermo la mano così proprio c'era 17 anni e mi dice no dai dai. a me mi ha già sentito io vi dico che comunque ci vuole un po' di disciplina come si dice? disciplina disciplina? Ci vuole un po' di disciplina a tuo figlio magari non ti ha i pugni comunque però rovescio rovescio queste cose qua qua ho capito? Può essere! Può essere! Non uccidete i vostri figli ma fate capire che ha sbagliato capito? Non gli menate senza ragione ecco non lo accusate spiegate spiegate comunicazione 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 e poi due botte prima non ho più che poi gli spieghi poi gli spieghi ok ti rispecchia non ti determina non determina chi sei come persona però c'è qualcosa che ti connetta perché se io non c'è 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 la ondola non c'è non c'è la nhưng non c'è questa un' Grazie.